Ciao ragazzi, allora volevo fare un video veloce, due parole su una cosa che è successa nel gruppo di Facebook di Chitarra Facile. Vi spiego cos'è successo. Domenico Ringhio Mezzatesta che ha pubblicato come fanno un po' tutti sul gruppo di Chitarra Facile, che è il gruppo di Facebook di Chitarra Facile. La cosa bella del gruppo è proprio che ognuno fa vedere quello che sta imparando, quindi siamo tutti aspiranti chitarristi, quindi gente che sta cominciando a suonare, ok? Quindi comincia da zero e fa un percorso per arrivare a riuscire a suonare qualcosa con la chitarra. Le persone mettono i propri video nel gruppo di Chitarra Facile perché stanno imparando tramite i corsi di Chitarra Facile e stanno cominciando a imparare. Allora mettono i propri video dove suonano, fanno vedere, magari chiedono consigli cosa devo fare per migliorare, eccetera, eccetera. Cos'è successo con Domenico? Praticamente lui ha messo questo, lui si è messo a fare la solo di Switched to Mine, la solo finale di Switched to Mine, ed è evidentemente un principiante Domenico, quindi l'ha anche detto che è alle prime armi. E allora dal mio punto di vista è fantastico, nel senso che una persona che all'inizio si mette addirittura a studiare la solo finale di Switched to Mine, che è difficile da fare, molto difficile da fare, per un principiante, ovvio, per un professionista lo sente una volta e lo rifà. Però per un principiante è molto molto difficile e infatti poi mi hanno anche chiamato in causa perché è venuto fuori il disastro, più di cento commenti, una discussione incredibile perché c'era, cioè il problema cos'è? È che io avevo già parlato di questo anche in un articolo del blog su suonarechitarra.com dove dicevo che ci vuole una certa tolleranza per se stessi quando si comincia a suonare la chitarra, nel senso che quando io comincio a suonare la chitarra magari provo a fare qualcosa e non suona benissimo, all'inizio magari sai, provo a fare il Do, qualche corda viene stoppata, ma non posso stare lì a guardare i puntini sull'I, certamente me ne accorgo che qualcosa di sbagliato sto facendo, ovviamente ascolto la solo originale, ascolto la solo mio, magari mi sono registrato, so che c'è qualcosa che non va, capisco che c'è qualcosa che non va, ma da qui a voler, diciamo, sistemare per forza delle cose e farlo veramente identico magari a quello che fa Slash, la solo, o magari sto facendo il Do, sto lì, no, non serve che stia lì a fare chissà cosa, va bene lo stesso, diciamo che il buon abbastanza, cioè il buono, l'abbastanza buono è buon abbastanza, ok, quindi anche se non ti viene esattamente uguale a come dovrebbe essere la solo, ragazzi va bene uguale, cerca di andare avanti, fai qualcosa, suona, ok, l'importante è divertirsi, i puntini sull'I sono cose che più vai avanti più li sistemerai, quello che è venuto fuori in questo post mi fa capire che forse questo concetto ancora deve passare, quando uno è all'inizio è inutile dirgli no, fa schifo questo solo, cioè perché state paragonando Slash a una persona che ha appena cominciato a suonare la chitarra, quindi evidentemente è ovvio che ci sia qualcosa che non va, adesso vi leggo il commento perché poi mi hanno chiamato in causa perché stava venendo fuori un disastro, e quindi io ho anche detto la mia e vorrei anche leggerla, io ho scritto, vabbè, ho scritto ok, Marco Giglio ha detto la mia opinione, mannaggia te sono mezzo ammalato perché sono ancora sotto antibiotico in questo momento, sinusite, vabbè, ci ho messo un quarto d'ora a leggere tutti questi commenti, comunque io una volta ho anche fatto un articolo dove parlavo della tolleranza che bisogna darsi per non impazzire a suonare la chitarra, in questo caso dato che Domenico ringhio mezzatesta sta ancora imparando, direi che è stato bravissimo, quindi dal mio punto di vista bastava dirgli semplicemente guarda sei stato bravissimo, poi vuoi che ti dica dove stai sbagliando, cioè probabilmente lui già lo sa dov'è che stava sbagliando, semplicemente se hai imparato sta cosa ho detto, boh, cioè io mi diverto a suonarla così, cioè prima di arrivare a farlo così veramente perfetto, è ovvio che insomma sappiamo tutti che non era perfetto. Io mi sarei limitato a dire questo, appunto che è stato bravissimo, non direi che è fuori tempo perché poi c'è stata gente che ha detto che è fuori tempo, direi solo che essendo all'inizio ed essendo un video e tra parentesi ho messo non è facile suonare in video, ve lo assicuro perché ve lo assicuro io, suonare in video non è per niente a fare, cioè ti accorgi di tutte le piccole imperfezioni, quindi tutti quelli che magari anche l'hanno criticato, io direi proviamo a vedere, cioè prova a farti un video, magari non lo pubblicare, ma vedi quanto è difficile, quante cose ti vengono fuori, cioè ti riascolti e dici cazzi però faccio cagare anch'io, cioè questo è quello che ne viene fuori se ognuno si registra, ok, perché quando suoniamo un po' così alla cazzo ci dimentichiamo di molte cose, cioè passiamo oltre a molte cose, mentre una volta che registriamo ci riascoltiamo, infatti io ho sempre detto registratevi e riascoltatevi, quando riascoltiamo ci accorgiamo di una marea di cose che non vanno bene in quello che stavamo facendo, anche mentre registriamo ci rendiamo conto però qua poi nella registrazione si sente, però magari mentre improvvisiamo, mentre suoniamo un po' così per i fatti nostri, non ci accorgiamo di certe cose, comunque appunto non è fuori tempo, è semplicemente poco preciso, ma è normale all'inizio, ho detto io, secondo me è bravissimo, ah non è vero che aggiungendo, togliendo le notte si va per forza fuori tempo, vabbè, perché questo è un discorso diverso, che era venuto fuori, comunque il discorso che voglio fare io è questo, non, cioè se qualcuno mette, cerchiamo di crescere insieme, ma non solo crescere, cioè motiviamoci insieme, quindi se un chitarrista, un aspirante chitarrista riesce addirittura a fare, a registrare la solo di finale di Switzerland O' Mine, cioè complimenti, bravo, basta, cioè cosa serve andare lì a dirgli, ma qui c'è qualcosina che non va, allora sicuramente lo sa anche lui, ok, perché basta ascoltare la solo originale e ascoltare il proprio, ok, si sa, cerchiamo di motivarci di più e far meno i criticoni, perché a fare i criticoni sono capaci tutti, diciamo che la maggior parte appunto ha detto bravo e è quello che bisognerebbe fare, ecco, solo fare questo, perché poi alla fine dopo la gente si scoraggia e ovviamente dopo un posto del genere che tutti gli danno su, poi anche Domenico ragazzi, comunque anche Domenico è una persona un po' particolare, io gli ho detto che è bravissimo, lui mi ha risposto la prendo, lo prendo come un complimento, ho detto cazzo, cioè ti ho detto che sei bravissimo, come vuoi prendo come un'offesa, quindi anche Domenico, poi ha risposto ad altre cose, forse erano un po' opinabili anche i suoi commenti, cioè non sto dicendo questo, però diciamo che anche voi, se lo tartassate un po' meno magari, quindi cerchiamo di motivarci insieme, continuiamo a fare come stavamo sempre facendo, continuiamo a motivarci nel gruppo per crescere insieme, facciamo vedere quello che stiamo facendo, chiediamo consigli come stiamo facendo continuamente adesso, cerchiamo di non impuntarci se stai sbagliando qui, piuttosto di dirgli guarda che hai fatto questa cosa molto bene, quindi prendiamo la cosa bella che ha fatto e diciamo gli complimenti, perché lo sa anche lui dove sta sbagliando, in caso glielo dico io, voi no, voi solo complimenti, ok? Boh, volevo solo spiegare questo, mi raccomando, continuate a scrivere nel gruppo, quello che state facendo, consigli, robe, ok? Ci vediamo nei prossimi video, ciao ragazzi!